Penso sì che stasera siamo pariti forti e ci tenavamo a portare la partita nel binario giusto perché questa partita qui anche oggi nelle altre partite si è visto che oggi ci sono sempre delle sorprese avevamo la testa pronta, la testa vogliosa di fare bene e poi il campionato penso che lo stiamo facendo anche quello che abbiamo fatto stasera poi la partita con la Roma è arrivata in pari però Napoli aveva giocato bene, aveva messo sotto l'avventario però magari non è riuscita a segnare anche per un po' di strutture però l'angeggiamento è quello di uscita Val di Fiori sta lavorando per farci trovare pronto sia che sia Coppa che sia Campionato sono contento di far parte di questo progetto, sono felice di esserti a Napoli quindi io cerco sempre di dare il massimo e quando vengo chiamato in causa e poi Napoli, ripeto, deciderà l'allenatore andiamo avanti per questa strada e con questa voglia di continuare a fare bene e di studiare penso a me mi ha impressionato il Napoli Napoli che è la squadra penso che gioca bene che c'ha forza, c'ha entusiasmo quindi noi guardiamo a noi poi dopo le altre faranno quello che voi